Giornata da ricordare per le coppie di San Salvo che hanno tagliato nel 2023 il ragguardevole traguardo dei 50 anni di matrimonio. Nella chiesa di San Giuseppe c'è stata la funzione religiosa celebrata da don Raimondo Artese, a seguire il pranzo con torta e brindisi finale, per quanti si sono giurati eterno amore nel lontano 1973. Da dieci anni ormai il comune di San Salvo attraverso le politiche sociali organizza la festa delle nozze d'oro, a fare gli onori di casa il sindaco Emanuela De Nicolis che nel saluto di benvenuto ha affermato siete i testimoni che l'amore può durare nel tempo, il simbolo della famiglia e della resilienza, valori positivi da trasmettere a tutta la città, date spessore al valore dell'unione, esempio da tramandare alle future generazioni. Significativo anche l'intervento del presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca nel ringraziare i coniugi presenti per aver contribuito con la scelta di risiedere a San Salvo a costruire il futuro della città. Che questo prossimo Natale sia anche l'occasione giusta per riunire le famiglie, ha detto la Magnacca, e trovare momenti di pace perché tutti abbiamo bisogno di serenità da condividere. Natale sia anche l'occasione giusta per riunire il futuro della città. Che questo prossimo è un'occasione giusta per riunire il futuro della città. Che questo prossimo è un'occasione